Buongiorno amici, questa mattina prima della mia consuata barzelletta ce ne vuole raccontare una, un mio carissimo amico, Max Giusti. Allora sono qua a Pato, eh? Vai tranquillo. Magliana, 4 di notte, a un certo punto tutto il quartiere dorme, tutte le luci spente da sotto, a papà! Sveglia da papà! Nessuno risponde, papà sveglia! Adesso comincia a accendere qualche lucetta, sveglia da papà! Dopo un po' saprei una finestra che un signore anziano che si affaccia dal quarto piano, dimmi che è successo, a papà che avresti fatto con po' che non tassi servito? Mi sarei giocato a casa, scendi capo verso! Adesso, te ne dico meglio a te. Vai! C'è un ragazzo che sta facendo l'autostop, in quel momento si ferma una macchina e a bordo ci stanno due embriachi fragili, questo via e sale, dopo qualche chilometro sti due stanno ancora una cifra e il ragazzetto tutto impaurito dal sedere dietro si allunga, busta sulla spalla di quello che non guida e gli fa così. Sì, signore, la prego, io soffro del cuore, gli puoi dire al suo amico della lantan pochetto, questo decide che fa, sshh, sento che se si sveglia ancora di più! Max Giusti e Geppo, l'abbraccio!